Problematiche entrambe le uscite ciclabili del ponte ai Cavanis. L'uscita a Borgo sfocia su un attraversamento pedonale che impone di sporgersi abbondantemente per vedere sopraggiungere delle vetture. Accompagnando una bici a piedi o rimanendoci in sella, si rischia di uscire sulla careggiata con la ruota anteriore, mettendo a rischio la propria sicurezza. Nei giorni scorsi una giovane ciclista che stava facendo babysitting e stava portando sul seggiolino un bambino, è stata urtata sulla ruota da uno scooter che stava procedendo a una velocità di molto maggiore rispetto al limite. Ruota massacrata ma ciclista e bambino fortunatamente illesi. Dal lato opposto corsia ciclabile ad est verso Chioggia, chi procede in bici dovrebbe entrare nel quartiere San Francesco e uscire alla rotonda in tutta sicurezza. Troppo spesso i ciclisti per accorciare il tragitto percorrono al tratto pedonale che sbuca subito sulla careggiata. Se lo fanno con attenzione a un conto ma troppo spesso si mettono in strada senza guardare che vi siano vetture che stanno sopraggiungendo, mettendo così a rischio la propria sicurezza e i freni della vettura o dell'autobus in arrivo. Gli ingressi alle ciclabili sono invece fluidi per coloro che decidono di mettersi perché sono in molti ancora coloro che ritengono superfluo l'uso della ciclabile. Non considerando le difficoltà per una macchina o peggio per un bus, iniziare un sorpasso visto il traffico e la larghezza della careggiata. Grazie a tutti.